E' stato identificato e denunciato l'autore del video sul grande raccordo anulare in cui si vede Francesco Sandrelli, il pittore di Cortona, avvolto dalle fiamme accanto alla sua auto incendiata. A permettere l'identificazione dell'uomo sarebbe stato un commento social sotto un articolo di giornale che trattava del caso poi cancellato, ma ormai era stato identificato. L'automobilista avrebbe ammesso le proprie responsabilità di fronte agli inquirenti, adesso dovrà rispondere di omissione di soccorso. Francesco Sandrelli, quel 6 febbraio, si trovava a Roma sul grande raccordo anulare quando la sua macchina ha preso fuoco, probabilmente a causa di un cortocircuito. Il 53enne era riuscito ad accostare sulla corsia di emergenza e scendere dall'auto, ma invece di essere aiutato è stato ripreso in video ed è riso. Ah sì, ma viene a fuoco! È morto dopo quasi due mesi di agonia in ospedale a causa delle gravissime ussioni riportate. A chiedere giustizia erano stati soprattutto i familiari di Francesco Sandrelli, devastati dall'accaduto. Al funerale a più ripresa avevano chiesto che l'autore del video fosse identificato. Persone che si permettono di mandare, che non soccorrono chi è in una situazione disperata, non solo, la filmano e la mettono in rete. Io proprio penso che peggio di così non possa andare la situazione. Quindi spero vivamente che comunque vengano individuati i colpevoli e assegnate la giustizia.